Tutti abbiamo bisogno di un confronto, una consulenza, un sostegno e di capire le nostre emozioni. Un aiuto psicologico può essere importante quanto quello fisico. Disaggi emotivi possono indurci ad azioni non protettive per sé e per gli altri. Se chiediamo aiuto non siamo deboli, anzi aumentiamo le nostre risorse e quelle delle persone che amiamo. Non vergogniamoci di chiedere aiuto, lo psicologo c'è!